Grazie a tutti i professori, usiamo metodi creativi e artistici e anche strumenti per sostenere il sistema educativo. In collaborazione con Inca Catalogna, in Barcellona, proviamo diversi corsi di training. Teatro, giochi, simulazioni e tutte le strutture creatività che abbiamo provato, credo che sono strutture strutture per lavorare con gruppi escludi di persone. Il più importante elemento sono i metodi creativi, perché normalmente in Germania abbiamo metodi cognitivi e sono stati. In questa settimana abbiamo studiato molti corsi creativi con gioco, gioco e gioco. Refugiati hanno la capacità di comunicare con altri studenti, e altri studenti hanno la capacità di capire che sono uguali, una parte di un puzzle. E ogni parte ha fatto un'importante role. E con le attività di dramma, questo potrebbe essere molto utile. Il obiettivo principale di CREATIVE DRAMA FOR SOCIAL INCLUSION è di proporzare le strutture concreti ai studenti, per lavorare e facilitare il lavoro con i rifugiati, e per evitare la scuola di scuola. Con il nostro programma pensiamo di proporzare una buona esperienza per i studenti, non solo lavorando con noi, ma anche per shareare le esperienze con loro. La scuola della scuola è chiamata Zip Zip Zip. Questo è stato molto buono per i miei studenti, e l'altro è il gruppo di tre colori. Questo è stato molto buono per imparare altre culture. E l'ultima, mi ricordo, è stato un luogo, un luogo immaginato, dove dovremmo fare qualcosa in questo luogo. Abbiamo capito che molti di noi hanno comunicato, è un altro modo di comunicare con l'altro, che non avevamo prima. Grazie a tutti.